Gilbert Newton Lewis nasce nel 1875 a Weymouth, nel Massachusetts. Bambino precoce, impara a leggere all'età di tre anni. Frequenta l'Università di Harvard, laureandosi in chimica nel 1899. Viaggia molto, trascorre un periodo all'Ipsia, dove approfondisce le sue conoscenze di chimica fisica. Nelle Filippine, come sovraintendente dell'ufficio pesi e misure, e infine al MIT di Boston. Qui, con Arthur Noyes e altri scienziati, conduce importanti ricerche sulle applicazioni chimiche dei principi della termodinamica. Nel 1912 ottiene una cattedra all'Università della California di Berkeley, dove resterà sino alla fine. Nel 1916 elabora una teoria sulla formazione dei legami chimici, che porta alla formulazione della regola dell'ottetto, secondo cui un atomo è stabile, quando possiede otto elettroni nel livello più esterno. Nel corso degli anni ottiene decine di candidature a Nobel per la chimica, senza mai ottenerlo. Il 23 marzo 1946, Gilbert Lewis viene trovato morto nel suo laboratorio. La causa del decesso è un attacco di cuore, ma non sono in pochi a credere che si sia suicidato.